Quasi 6.300 abitanti, Borgo famoso per le sue mura, le case matte e non solo, a Pizzighettone per le amministrative, si sfideranno il sindaco uscente Luca Moggi e Giancarlo Bissolotti, attuale consigliere di minoranza. Ci ripresentiamo dopo 5 anni di amministrazione, ci rimettiamo in discussione come squadra, una squadra rinnovata che ha cercato di unire l'esperienza di certi elementi con l'innovazione e l'entusiasmo portato anche da figure nuove che non erano mai state all'interno del Consiglio Comunale. Fare l'amministratore, diciamo oggi, vuol dire fare i conti con ristrettezze economiche che la pandemia ha ulteriormente condizionato. Abbiamo dato aiuti per oltre 500.000 euro, abbiamo fatto tantissimi investimenti sulle scuole e ci proponiamo di mettere al centro i giovani proprio perché i giovani sono il nostro futuro. Per quanto riguarda gli investimenti stiamo facendo questa intervista dalla piazza principale, abbiamo partecipato anche dei bandi per quanto riguarda le mura di Pizzighettone che sono la nostra storia, il nostro patrimonio più importante e che hanno anche una valenza dal punto di vista turistico. Bissolotti anzitutto difende la sua lista, non è una mucchiata come qualcuno ha lasciato intendere, dice, ma è un gruppo di persone che ha approntato un programma articolato e complesso con un fulcro rappresentato dal benessere del cittadino. Desideriamo occuparci a 360 gradi dai bambini, quindi chiaramente dall'assistenza scolastica piuttosto che all'assistenza post scuola, ma anche agli anziani. Non dimentichiamo che a Pizzighettone recentemente si sono perse tante potenzialità che riguardano proprio la sfera degli anziani. Poi la battaglia per la creazione di un teatro e gli interventi sul comparto dello sport. Perché all'interno delle mura ci sia finalmente, anche se piccolo, ma credo che sia significativo creare un vero teatro delle mura. È stato usato anche in passato per manifestazioni, ma era una casa matta che si abilitava ad uso teatro. Io vedo troppi ragazzi, troppi giovani, diciamo, che si divertono e cercano svago all'interno dei parchi pubblici. Provvederemo a sistemare, come c'è negli Stati Uniti, ma in tante altre città, piccoli campi da calcio come piccoli campi da basket. E poi studieremo la fattibilità di questo, dico benedetto perché è desiderato, palazzetto dello sport. Ciao, a presto.